Oggi vi raccontiamo la nostra storia, la storia di Ingegneria Italia, perché più o meno un anno fa eravamo attorno ai 10.000 iscritti e adesso finalmente siamo praticamente a 300.000. Abbiamo praticamente fatto 290.000 iscritti nell'arco di 12 mesi e per noi è una soddisfazione incredibile e soprattutto è tutto grazie a voi. Per cui volevamo fare un video un po' diverso dove non parleremo di tecnologia e di ingegneria, quanto più della storia che ha portato Ingegneria Italia dalla nascita fino ad essere oggi un'azienda che si sta espandendo. Tutto è cominciato più o meno a marzo-aprile 2021, dove io ho conosciuto Marco. In realtà io e Antonino stavamo già avviando una sorta di progetto imprenditoriale perché stavamo portando avanti Ingegneria in Borsa, la nostra community di finanze e investimenti. Marco in quel periodo stava cambiando lavoro e usciva da una startup e voleva in qualche modo mettersi in proprio. In realtà poi Antonino poco tempo prima era stato lo stagista di Marco, quindi lavoravano già insieme e Antonino ricordandosi un po' il suo passato in azienda ha pensato di farmi conoscere Marco perché lo riteneva una persona interessante e con cui poter costruire un qualcosa insieme. Quindi abbiamo fatto qualche incontro iniziale. Avevamo tutti un po' un background nella divulgazione e nello sviluppo di idee tecnologiche. Io e Antonino per Ingegneria in Borsa è perché Marco prima si occupava proprio dello sviluppo di idee in una startup, in particolare nell'ambito tecnologico e ingegneristico. C'era sicuramente un fattore comune, tutti e tre avevamo fatto Ingegneria a Brescia e ci piaceva raccontare effettivamente le innovazioni tecnologiche, anche perché su Ingegneria in Borsa parlavamo di una nicchia della nicchia perché prendete 10 persone, probabilmente solo ad una, massimo due, interessa l'ambito degli investimenti sul mercato azionario, mentre invece potenzialmente il comprendere quello che ci circonda, quello che c'è attorno a noi, è un qualcosa che interessa molte più persone. In più, se dal lato finanza c'erano già diversi attori che si occupavano di divulgazione, nell'ambito dell'ingegneria e dell'industria in generale non c'era praticamente nessuno, per cui avevamo intravisto uno spazio in cui potevamo inserirci. All'inizio abbiamo avviato Ingegneria Italia come un progetto un po' a tempo perso, non sapendo che era un qualcosa che avrebbe cambiato profondamente la nostra vita e il nostro lavoro. Ma prima di raccontarvi altro ragazzi mi raccomando, se ci avete sostenuto finora continuate a farlo con un bel like o iscrivendovi al canale perché i 300.000 iscritti sono solo il primo obiettivo, ne abbiamo altri molto più ambiziosi e contiamo su di voi per continuare a crescere e a diffondere la divulgazione ingegneristica in Italia. Comunque, torniamo a noi a quel famoso aprile 2021. Abbiamo iniziato con la pagina Instagram e il canale YouTube con dei contenuti un po' rudimentali, nel senso che spiegavamo come funziona un pannello fotovoltaico, come funziona una turbina eolica, cose di questo genere. All'inizio naturalmente, come ogni canale appena avviato, andava molto lentamente, cresceva di poche persone al giorno e anzi eravamo anche un po' dubbiosi su quanto potesse espandersi questa nicchia. In realtà poi i mesi passavano e la community effettivamente cresceva, avevamo un primo riscontro che c'era un mercato attorno alla divulgazione scientifica, ma il primo tassello che ci ha permesso di considerare Ingegneria Italia non tanto come un piccolo progetto quanto più come una possibile l'azienda è il fatto che delle imprese, delle realtà produttive avevano cominciato a contattarci, con una richiesta molto semplice. Ci dicevano, ma perché voi ragazzi invece che fare un video sul taglio laser prendendo delle clip su internet non venite nella mia azienda dove abbiamo davvero il nuovo impianto di taglio laser, così fate comunque un contenuto che piace alla vostra community, ma nel frattempo fate conoscere anche la mia azienda che si sta espandendo. Ecco, questo genere di richieste sono state le prime che ci hanno portato a lavorare con le aziende. Tant'è che ormai, anche se da fuori magari non si vede, Ingegneria Italia è all'80% una realtà B2B. Comunque, quei contenuti abbiamo visto che piacevano ed erano un win-win per tutti. Come mai ve lo dico? Beh, perché alla community piacevano effettivamente dei contenuti dentro le aziende, molto spesso non è un qualcosa che si vede e conoscere le realtà produttive italiane dall'interno effettivamente appassiona molte persone. Dall'altro lato le aziende che nel loro settore erano magari conosciute, ma al di fuori molto poco, riuscivano ad avere una visibilità in tutta Italia con dei contenuti che venivano veicolati sulle nostre piattaforme. E con qualche prima collaborazione siamo arrivati alla fine del 2021, con una community un po' più grossa, molte idee per il futuro e soprattutto delle prime conferme che poteva stare in piedi come modello di business. Il 2022 poi sicuramente iniziato col botto. Abbiamo iniziato con i famosi format, sapete cosa state guardando e dopo tutto anche questa ingegneria, che ci hanno portato ad accelerare in maniera davvero esponenziale i nostri tassi di crescita. Ve lo dicevo prima, fine 2021 avevamo poco meno di 10.000 iscritti. Fine 2022 siamo a 300.000. E a quel punto abbiamo anche avviato un primo processo di strutturazione della nostra realtà aziendale, che formalmente è diventato un SRL a luglio 2022, ma l'abbiamo sempre considerato come tale ancora a gennaio. In primis ci siamo strutturati internamente, perché le aziende ormai non ci chiedevano più soltanto dei contenuti su Ingegneria Italia, ma anche la creazione di contenuti che venivano veicolati sui loro canali, quindi LinkedIn, Instagram piuttosto che YouTube, e soprattutto per creare del materiale di divulgazione. Pensate ai profili LinkedIn delle aziende. Molto spesso chi non è un po' nel settore, chi non ha un background tecnico, fa fatica ad esaltare la tecnologia e la professionalità di una certa realtà industriale. Chi si occupa solo di marketing sostanzialmente fa un po' fatica a cogliere quel tipo di sfumature. E le aziende avvertivano questa necessità, perché magari sui loro canali si leggeva guardate questa fresatura, ma era una tornitura, si leggeva questo è il nostro stampo, in realtà è una matrice. Insomma avevano dei piccoli accorgimenti che volevano migliorare. E Ingegneria Italia, che al suo interno aveva sia personale tecnico, quindi ingegneri, che personale legato al marketing e alle grafiche, pensate ad editor, grafici e quant'altro, riusciva a colmare queste esigenze. Così abbiamo cominciato a creare contenuti per conto delle aziende, che non venivano più veicolati su Ingegneria Italia, ma semplicemente sui loro canali. Questo per noi è stato un passo molto importante, perché in primis ci permetteva di strutturarci, quindi avere delle entrate più stabili e avere più cassa per investire sul nostro sviluppo. Dall'altro lato ci ha aperto le porte in tantissime realtà industriali, con cui tutt'oggi collaboriamo. In più abbiamo anche colto la palla al balzo per creare la divisione di laboratorio di Ingegneria Italia, perché le aziende poi non ci chiedevano più solo contenuti, ma anche la risoluzione di piccoli problemi ingegneristici, pensate ad alcuni prototipi, la stampa 3D, la progettazione meccanica ed elettronica, tutto quello che riguarda perizie, bandi, brevetti, insomma abbiamo strutturato Ingegneria Italia come un piccolo studio di ingegneria che aiuta le imprese e a volte anche i privati a sviluppare dei progetti innovativi. Immaginatevi come Target un'azienda che non può avere al suo interno un ingegnere elettronico, perché magari dopo un piccolo progetto non sa più come saturarlo, e quindi preferisce dar fuori questo progetto, fare outsourcing e trasformare un costo fisso in un costo variabile. Ecco, questo è il target Ingegneria Italia. E soprattutto, cosa più importante, in cui crediamo tantissimo, abbiamo cominciato con i famosi documentari all'interno delle imprese italiane. Ci siamo accorti che effettivamente era una necessità molto importante. Il pubblico in Italia non vedeva spesso all'interno gli stabilimenti produttivi, c'era una sorta di scatola nera che qualcuno doveva colmare, e le aziende stesse facevano fatica a farsi conoscere. Un conto è dire di essere leader di settore, un conto è dimostrarlo facendo vedere la qualità dei processi e delle persone che lavorano all'interno. Ecco, lo scopo dei documentari aziendali con cui portiamo delle imprese italiane a farsi conoscere su Ingegneria Italia è proprio questo. Giusto per intenderci, il nostro target non è la Ferrari, anche se naturalmente se dovesse chiamarci andremo sicuramente a fare un contenuto da loro, perché in quel caso il brand parla da sé. Tutti conoscono Ferrari, sanno cosa fa e perché i suoi prodotti sono di qualità. Diverso invece magari per aziende che si occupano di lavorazione della lamiera, produzione di macchinari industriali o di elettronica. In quel caso sono aziende meno conosciute al di fuori della loro nicchia, ma che comunque hanno al loro interno un know-how e una storia che poche altre aziende al mondo possono vantare. E in più questo genere di attività che ormai stiamo portando avanti sempre di più, cercando di portarvi un video al mese dentro le aziende, ci ha aperto anche una nuova divisione. Abbiamo notato che molte aziende volevano fare questi contenuti non tanto per farsi conoscere, quindi attrarre potenziali nuovi clienti, ma per attrarre dei talenti. Molte aziende fanno fatica a trovare degli ingegneri che vadano a lavorare con loro. Anche qui molto spesso è un problema di brand. Ci sono dei brand super famosi che fanno man bassa di nuovi talenti, perché magari fa figo andare a lavorare in queste super aziende, ma magari ci sono tante altre realtà che offrono degli spunti molto interessanti, che fanno ricerche e sviluppo e che sono molto professionalizzanti, che fanno fatica ad essere appealing, ad essere attraenti per le nuove leve ingegneristiche. Ecco facendo vedere le aziende dall'interno si aiuta a colmare molto questo gap, perché i giovani ingegneri possono vedere effettivamente il loro possibile futuro luogo di lavoro. Ormai penso sia una cosa condivisa da tutti, qualunque candidato prima di accettare un colloquio va a vedere come l'azienda cosa fa e come è strutturata al suo interno. Ecco questi documentari aiutano a tagliare un passaggio e rendere più facile il matching tra domande e offerta nell'ambito dell'ingegneria. Quindi al momento per fare un mini recap, Ingegneria Italia da piccolo progetto di divulgazione è diventata un'azienda che ha due divisioni principali. La parte media, che possiamo definire così, dove creiamo contenuti per le aziende che vanno o sui loro canali o sui nostri, e la parte di ingegneria vera e propria, dove aiutiamo privati ed imprese a sviluppare dei progetti innovativi e a fare ricerca e sviluppo nel vero senso della parola. Per il 2023 abbiamo grandi progetti e grandi ambizioni, vogliamo sviluppare entrambe le divisioni spingendo moltissimo, vogliamo estendere anche l'organico, al momento Ingegneria Italia non ha decina di collaboratori, l'anno prossimo vogliamo fare molto meglio, stiamo facendo degli investimenti per strutturare ancora meglio il laboratorio, quindi avere più macchinari, avere più servizi che possiamo offrire alle aziende e stiamo anche lavorando al prossimo evento di Ingegneria Italia. Avete visto Convivium 2022, dove abbiamo portato 300 studenti all'ultimo anno di Ingegneria a Brescia, a contatto con le aziende che stanno cercando un nuovo personale, l'anno prossimo vogliamo fare un evento ancora più in grande. E poi un piccolo sogno nel cassetto, ma che questo oggettivamente faremo fatica a sviluppare il prossimo anno, vorremmo passare dai servizi ai prodotti, avere un piccolo prodotto nostro da sviluppare, produrre e vendere. Ci rendiamo conto che è un obiettivo super ambizioso, perché sviluppare un nuovo prodotto che abbia comunque delle caratteristiche migliori rispetto alla concorrenza è estremamente difficile, ci vogliono investimenti, know-how, macchinari, stabilimenti, ma è un qualcosa che un domani ci piacerebbe approcciare. Per ora sicuramente siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto fino ad ora, anzi siamo molto grati a voi per averci dato l'opportunità di trasformare un piccolo progetto di divulgazione in un'azienda che ormai è il nostro lavoro fisso, perché ormai l'80-90% del nostro tempo lo passiamo in Ingegneria Italia. Ci rendiamo anche conto che siamo giovani, ma questo lo vediamo come un'opportunità e non come una difficoltà, perché daremo il massimo, il 110%, per continuare a sviluppare, l'azienda. Detto questo ragazzi spero davvero che questo video un po' diverso dagli altri vi sia piaciuto, volevamo comunque raccontarvi la storia di Ingegneria Italia dall'inizio fino a quello che è diventata oggi e speriamo di farvi un ulteriore aggiornamento tra qualche mese con le nuove attività che avremo aggiunto. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando tasto like e aiutateci a continuare a crescere perché noi non vogliamo fermarci. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!